La tariffa COSAP per tutte le tipologie di occupazione suolo pubblico è semplicemente astronomica, tanto è vero che si paga un euro al metro quadrato al giorno per l'occupazione con i ponteggi per la manutenzione delle facciate degli edifici. A sostanello è il presidente del Movimento Cambiare Scicli, Giuseppe Implatini, che ha protocollato una richiesta al sindaco di Scicli, Enzo Giannone, all'assessore ai tributi, per un incontro finalizzato ad affrontare l'intera tematica della riduzione della tariffa dei canoni occupazione suolo pubblico per tutte le tipologie. E' inconcepibile, scrive Implatini, che si debba pagare la cifra astronomica di 3.000 euro di canone per 100 metri quadri ogni 30 giorni, una cifra insensata che ha scoraggiato fortemente parecchi dal procedere alla manutenzione ordinaria delle facciate, aggravando ancora di più la insopportabile crisi che ha colpito l'edilizia. Stessa situazione continua Implatini per i passi carabili che pagano 21,9 euro al metro quadro per anno che, ragguagliato alla misura di un tumulo di terreno, vale a dire 1.744 metri quadrati, si ha una cifra astronomica di 38.193 euro ogni anno. Analoga situazione, scrive ancora il presidente di Cambiare Scicli, si riscontra per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, per le attività di bar, pizzerie e ristoranti, che pagano 36,50 euro al metro quadrato per anno. Ancora più grave è la situazione per le occupazioni temporanee per le stesse attività, che pagano un euro metro quadrato al giorno, per cui se ne occupano 100 metri quadrati nella stagione estiva per 60 giorni, pagano 6.000 euro. E poi paradossale, afferma ancora Giuseppe Implatini, che in alcuni casi i cittadini siano costretti a pagare per occupare il suolo pubblico di fronte al proprio garage che, peraltro, ab origine, era di loro proprietà e che hanno dovuto cedere gratuitamente allo stesso comune per realizzare metà della strada. Non si può continuare a trattassare i contribuenti di Scicli, così come hanno fatto le precedenti amministrazioni e gli illuminati della triade commissariare, dice eronicamente Implatini. Pertanto, conclude il presidente di Cambiare Scicli, chiediamo un incontro urgente al sindaco, unitamente all'assessore ai tributi, a fine di affrontare l'intera tematica della riduzione della tariffa canoni occupazioni suolo pubblico per tutte le tipologie di occupazione.